In tempi di emergenza sanitaria non poteva mancare il dibattito e il sit-in di protesta organizzato dalle forze di centro-sinistra della provincia di Pesaro Urbino qui all'ospedale di Muraglia sabato 21 novembre. Capitanate dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci sono presenti anche il sindaco di Vallefoglia, il sindaco di Gragara, l'assessore al welfare di Fano e il presidente della provincia. Noi ci batteremo per avere questo ospedale perché siamo stanchi di curarci fuori regione abbiamo già perso tanto tempo nella scelta, nelle procedure burocratiche adesso che si sta per partire non si può di nuovo bloccare tutto. Quindi spero che il presidente Acquaroli ascolti la voce di questo territorio stiamo parlando di una provincia importante, della seconda e la terza città delle Marche della prima unione dei comuni delle Marche quindi pensare che si possa governare contro questo territorio mi pare molto arduo soltanto da immaginare. Può riassumere per i nostri ascoltatori dove si recherà la prossima settimana per condurre questa battaglia? Sicuramente da oggi inizia una battaglia istituzionale nei consigli comunali, nel consiglio provinciale, regionale e dall'altra i martedì sarò di nuovo al Ministero della Salute perché il Ministero della Salute ha tutto l'interesse affinché queste risorse vengano spese e spese velocemente. Quindi è di certo dalla parte di chi vuole realizzare e non di chi vuole fermare. Inoltre sono in attesa dell'incontro ufficiale con il presidente Acquaroli perché penso che passata la campagna elettorale e messa da parte la propaganda anche il presidente Acquaroli voglia realizzare delle cose importanti durante il suo mandato. Questo territorio oggi soffre di una mobilità passiva proprio per l'eccellenza e quindi purtroppo molti cittadini devono andare fuori regione. Chiaramente questo ospedale d'eccellenza è a disposizione di tutto il territorio provinciale e sta in un sistema in cui ci deve essere e va rafforzata, era previsto anche nel nuovo piano sanitario, anche la rete di urgenza e emergenza dei presidi dell'entroterra, Cagli, Sasso Corvaro, Fossombrone, l'ospedale di Urbino di primo livello, l'ospedale di Pergola e chiaramente anche il protocollo che era stato firmato nel 2018 per Fano e per i servizi previsti al Santa Croce e tutto quello che era previsto nel protocollo. Questo non è mai stato pensato come un ospedale unico che doveva andare a sostituire, quindi a chiudere, l'ospedale di Urbino, l'ospedale di Pergola e quello di Fano, ma è un nuovo ospedale, una struttura di secondo livello, di eccellenza, dove tutti i cittadini del territorio della provincia di Pesosubino potranno averlo come riferimento per potersi venire a curare. Devo dire che quello che mi sconvolge di più è che anche i consiglieri di questo territorio stanno mettendo in discussione i 120 milioni di euro che la Regione Marche aveva destinato, 104 dello Stato e 16 della Regione, andando a rischiare di perdere una quantità di risorse mai viste in questo territorio e quindi penso che questa cosa sia veramente molto negativa. Quello che dobbiamo fare, se il project è uno strumento che non viene più considerato come quello più giusto da utilizzare, la Regione può benissimo mettere gli altri 100 milioni di euro che bastano perché come Regione abbiamo veramente dei conti a posto e non abbiamo nessun problema a mettere altri 100 milioni di euro. Anche a noi abitanti delle aree interne ci farebbe sentire più tranquilli avere un ospedale che funziona a peso. Io in questo momento ho dei problemi a casa, in famiglia, di salute e sto andando all'ospedale di Ancona, alcune cose se fossero state qui a Pesaro l'avrei fatta a Pesaro e non starei tutta la settimana a Ancona. Ecco, questa cosa secondo me è anche un primo passo per potenziare anche le aree interne, i presidi delle aree interne perché se casca questo castello casca poi tutto. Cioè è vero, dice, dirottiamo questi soldi alle aree interne, ma a quali, cosa, come? Cioè non è che c'è un progetto.